Vi do il benvenuto, sono Anton Dorn, un umile biologo marino. Un tempo scrutavo con meraviglia il mistero dei mari, ora trovo altrettanta meraviglia nel guardare il vostro progresso. Vedere quanto la tecnologia è avanzata oggi mi riempie di meraviglia. Ma mi preoccupa anche, sappiamo che il progresso può avere un impatto negativo sugli ecosistemi marini. Vi chiedo quindi di ricordare sempre quanto sia preziosa la vita marina. Siate innovatori responsabili, in linea con la sostenibilità del nostro pianeta.